Festa è il primo ottobre in tutto il mondo per celebrare la giornata internazionale del caffè. L'appuntamento è festeggiato con i 77 stati membri dell'Organizzazione Internazionale sul Caffè e le associazioni del caffè da tutto il mondo. Con l'International Coffee Day 2024, l'Organizzazione Internazionale sul Caffè invita il settore ad abbracciare la collaborazione per un'azione collettiva con il messaggio Il Caffè, il tuo rituale quotidiano, il nostro viaggio condiviso. Il tema della campagna e del messaggio è quello di sottolineare l'importanza di abbracciare la collaborazione per un'azione collettiva e il suo ruolo nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile nel settore globale del caffè. La campagna è costituita da video, poster e cartoline disponibili in varie lingue che ritraggono visivamente esempi di collaborazione. Per l'International Coffee Day si può utilizzare l'hashtag ICD2024. Il report dell'ICO certifica che le esportazioni mondiali di caffè ammontavano a 11,29 milioni di sacchi a luglio 2024 rispetto ai 10,6 milioni di luglio 2023. Le esportazioni nei primi 10 mesi dell'anno caffèicolo 2023-2024 sono aumentate quindi del 10,5% a 115,01 milioni di sacchi rispetto ai 104,05 milioni di sacchi nello stesso periodo del 2022-23. Nei 12 mesi conclusi a luglio 2024 le esportazioni di Arabica ammontavano a 82,26 milioni di sacchi rispetto ai 74,37 milioni di sacchi dell'anno scorso mentre le esportazioni di Robusta ammontavano a 51,62 milioni di sacchi rispetto ai 49,75 milioni dell'anno precedente. In Italia, secondo l'Istituto Espresso Italiano, oltre il 73% degli italiani beve regolarmente il caffè ogni giorno e si bevono complessivamente 95 milioni di tazzine di caffè al giorno, quasi una media di 1,6 a persona. L'Istituto segnala inoltre che secondo l'area studi Mediobanca, nel mondo sono 3,2 miliardi le tazzine bevute ogni giorno. Valore stimato in crescita a 3,8 miliardi di tazzine entro il 2030.